Il mio arrivo a Castelbuono è singolare, da un po' di anni il mio rapporto con Sant'Anna è diventato molto particolare. Il Festival Herte Madonie chiedeva proprio la realizzazione di una Sant'Anna nel suo paese di riferimento, perché a Castelbuono è presente una delle reliquie più importanti. Questo cranio che è da Gerusalemme transita per la Francia alla Cattedrale di Atipi per approdare a Castelbuono. I castelbuonesi sono devotissimi alla madre di Maria e nonna di Gesù e sono molto felice di realizzare quest'opera. Invece penso che il punto dove ho dipinto l'icona sia molto interessante, perché è esattamente all'ingresso del paese ed esattamente le involge lo sguardo al paese di Castelbuono, come a voler sottolineare il suo patrocinio. Ho trovato tantissimo entusiasmo. Le persone che mi incontrano, che passano a trovarmi, sono molto felici dell'iniziativa e in qualche modo porta un po' di novità alla routine della cittadina. Sono tutti molto gentili con me. Ho pensato, prima di venire per la Residenza, di realizzare queste piccole immaginette che ricordano un po' il dipinto che ho realizzato, da regolare alle persone che si sarebbero interessate al mio lavoro. Sul retro ho riportato le allegrezze, una preghiera che viene fatta il martedì, che è proprio il giorno in onore a Sant'Anna, che ho trovato molto belle perché sono specifiche del territorio. Questa è una ricerca che ho fatta a Catania e poi qui è stata confermata. Devo dire che anche queste immaginette che ho realizzato permettono una relazione con le persone più intima, meno esecutiva, ma più partecipata, perché il lavoro che ho realizzato per me ha un'importanza che va al di là dei suoi contenuti estetici, ma è quasi un atto devozionale. Mi rallegro Sant'Anna mia, vera madre di regina, vagarosa senza spina che levò la colparia. Mi rallegro Sant'Anna mia. Grazie a tutti.